Selvaggia Lucarelli contro Emma Marrone, goffa e sciatta. Selvaggia Lucarelli è una che le cose non le manda certo a dire. La giurata di Ballando con le stelle, giornalista e volto noto del piccolo schermo è nota per i suoi duri affondi nei confronti di personaggi televisivi e musicali. E questa volta le parole pronunciate nei confronti di Emma Marrone hanno suscitato la rabbia dei fan della cantante salentina. La Lucarelli, a mezzo social, tramite post e interviste, non ha peli sulla lingua, andando a ruota libera, con estrema libertà d'espressione e questo ad alcuni piace. Ad alti un tantino meno. Indubbiamente è una professionista che non teme di dire quel che pensa, anche a costo di sembrare offensiva o arpia e se di mezzo ha tirato, stavolta, una che, quanto a tostaggine, è alla pari, come Emma. Cosa sarà mai accaduto? Sono in tanti, avendo appreso la notizia, a volerne conoscere i dettagli. Emma, dal suo canto, non è certo da meno rispetto alla giornalista, poiché le sue campagne contro il body shaming e ogni forma di violenza fisica o verbale sulle donne sono stranote. Il duro affondo di Selvaggia Lucarelli ad Emma Marrone, tra le cantanti più amate dagli italiani, in cui le ha dato della goffa e della sciatta, sta dividendo fortemente l'opinione pubblica. Vediamo tutto in dettaglio nella pagina successiva del nostro articolo, poiché l'accaduto è divenuto viralissimo in pochi istanti. Selvaggia Lucarelli, nel suo nuovo podcast, Vale Tutto, ha parlato di Emma Marrone e le sue parole hanno innescato un fortissimo clamore che non si placa. Pare di fatti che non solo abbia mosso una critica nei confronti dell'aspetto fisico della cantante, ma che abbia fatto notare quanto l'immagine e il suo stile possano influire sulla qualità della sua esibizione sul palco. Ovviamente la curiosità di conoscere tutto ciò che la giornalista ha detto è tanta. Selvaggia Lucarelli, all'interno di Vale Tutto, ha dichiarato. Lo stile di un cantante è parte integrante e fondamentale della sua performance e del risultato, ha spiegato la Lucarelli. Sottolineando come il look, insieme al corpo, riesca a giocare un ruolo determinante nel successo di un artista. Anche perché le più grandi icone della musica hanno fatto la storia anche grazie ai loro look. Fin qui nulla di forte, ma le sue parole successive sembrano aver segnato un duro affondo nei confronti della cantante Salentina, poiché ha aggiunto. Emma sembra aver dimenticato cosa sia uno spettacolo. Le persone pagano e si aspettano una messa in scena che valga le aspettative. La libertà di essere ciò che si è, che lei rivendica, non dovrebbe allontanarsi troppo da ciò che è spettacolo. Anche perché il repertorio di Emma non farà certamente la storia della musica. Quella che più di tutti ha mandato in bestia i fan della Marrone, è la battuta conclusiva di Selvaggia. La provocazione si fa con l'arte, non con la sciatteria spacciata per anticonformismo. Secondo voi, Emma avrà risposto alla Lucarelli o si sarà tenuta la sua frecciatina? Beh, sulle sue Instagram Stories, ha pubblicato una sua foto con la sua canzone in French Liviera e l'ha scritta. Non mi va di restare nei limiti. Sul bancone vestita da Trinity. O mi ami o mi odio mi imiti. Deciditi. È un brano suo ma sarà mica diretto alla Lucarelli?